La pacca di qua, invece via il prete di Sant'Agostino e gli dico no, mamma mia! C'è pacca di là, c'era con le Montepulevo. Bene, qui è... Evento Day, è la geografia per turisti. Sì, che cazzo! Sì, che cazzo! Sì, che cazzo! Sì, che cazzo! Le ragazze sono tutte uguali e io proprio non li affaccio più diventerò che in quattro iniziali andrò a fare l'auti di tipo e il corso! Evento Day! Evento Day! Sì, 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 Sì. Sì, 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 Sì. Sì, 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 S C'è un post-it che ci ricordano le cose vorranno. Per non dimenticare.